Siamo qui per due motivi, in primis per lanciare lo special, lo special che abbiamo realizzato grazie a Rossini TV per il quarantesimo del coro San Carlo, registrato il 6 gennaio, quindi ci sono le piccole strati musicali del 6 gennaio e poi c'è anche un backstage, quindi si vede la nostra sala prove, ci sono alcune interviste in cui si parla della nostra storia, in cui si racconta chi siamo, chi è il coro San Carlo oggi, chi era il coro San Carlo ieri e quindi sono 20 minuti proprio per una full immersion a tutto tondo sulla vita di questo gruppo corale pesarese che veramente 40 anni fa forse non si poteva neanche immaginare dove poi sarebbe arrivato nel corso del tempo. E poi cosa succede in corrispondenza proprio di questo lancio, di questo special tv è anche per noi il periodo di aprirci alla città di Pesaro, così come anche a tutta la provincia o a chi lo desidera per la ricerca di nuove voci. Questo è un appuntamento abbastanza fisso nel corso degli anni, a volte una volta all'anno, a volte due volte all'anno a seconda del tempo e ora che poi abbiamo già da tempo ripreso pienamente l'attività dopo le problematiche legate al Covid abbiamo proprio il grande piacere di poter invitare tutti quelli che lo desiderano a scriverci o a contattarci ai nostri recapiti corosancarlochiocciolagmail.com oppure al numero telefonico 3406173342 e semplicemente lasciare il proprio disponibilità. Come funziona? È molto semplice entrare nel coro San Carlo, si fa una piccolissima audizione attitudinale a porte chiuse in cui si verifica se c'è un po' di musicalità, un po' di orecchio ma non è richiesta la conoscenza progressa della musica, anzi questa abbiamo visto che nel tempo piuttosto è una competenza che si impara anche a fura di fare proprio nella bellezza del nostro lavorare insieme due volte a settimana. Ecco appunto quindi noi lavoriamo il lunedì sera e il mercoledì sera dalle 21 alle 23 nella nostra sede storica, sempre quella in via Confalonieri 9 sotto nel locale della circoscrizione di quartiere e quindi poi chi lo vorrà appunto potrà recarsi lì e in un attimo facciamo questa piccola audizione. Se la cosa va bene naturalmente si può subito iniziare un periodo di prova che dura alcuni mesi e poi si entra ufficialmente in organico nel coro San Carlo. Sono appunto uno dei nuovissimi arrivi, ho fatto praticamente quattro mesi all'interno del coro da novembre tenendo conto che c'è stata una piccola pausa a gennaio e quello che ho vissuto è stata sicuramente un'esperienza a dir poco sensazionale perché ciò che ho colto subito dall'inizio è la grande professionalità dei maestri perché ti fanno subito entrare all'interno del meccanismo di quello che è appunto il coro con l'analisi delle varie parti musicali, quello che potrebbe essere un cenno storico relativo alla parte musicale che si sta affrontando e invece dopo quello che si vive dopo le prime esperienze sicuramente è quello che è il vero cantare in coro, quello che è lo stare insieme agli altri e quello che si può comprendere maggiormente è l'essere una così piccola parte ma anche così importante e quello che diciamo si può capire maggiormente all'interno di quella che è l'esibizione. Sicuramente la cosa che poi si percepisce è che il coro non ha età, il coro non ha età e infatti è bello cercare di condividere questo ideale musicale e non solo con altre persone che possano essere di tutte le età. Certo noi abbiamo avuto adesso a che fare all'interno di un coro dove molto spesso chi ci lavora, chi ne fa parte è gente che ha smesso magari un lavoro, gente in pensione, ma ciò non deve bloccare assolutamente i giovani, chi magari ancora studia o chi magari anche lavora per cercare di eguagliare, conciliare questa esperienza, diciamo l'esperienza più pratica del lavoro con quella invece che è quella musicale, perché essendo la musica la colonna sonora della vita di ciascun uomo non può mancare all'interno anche di qualunque essere umano.